Distretto interregionale di economia civile verso l'adesione congiunta dei comuni di Città di Castello e Sansepolcro, avviato l'iter burocratico. A dirlo sono i sindaci Tifernati e Biturgensi, rispettivamente Luca Secondi e Fabrizio Innocenti, che annunciano così l'adesione al distretto dell'economia civile, che successivamente verrà formalizzata tramite delle delibere degli enti per dare seguito al processo di costituzione e definire l'ambito territoriale di riferimento e poi redigere un documento programmatico con revisione periodica che definirà le progettualità specifiche. L'obiettivo è quello di permettere al distretto di economia civile di essere un distretto a carattere interregionale, creando così una unificazione fra comunità che si riconoscono al di là dei confini geografici, amministrativi e regionali. Un progetto, inteso in questa ottica condivisa e unitaria, rappresenta un elemento innovativo in grado di rafforzarlo e diffonderlo nei territori, come hanno spiegato i due in una lunga nota. Al centro dell'azione politica c'è ovviamente la crescita del territorio, che non deve tenere in considerazione solo gli indicatori finanziari e numerici di sviluppo, ma anche quelli della qualità della vita, del benessere, della sostenibilità ambientale di una comunità solidale che non lascia indietro nessuno, ma anzi tutela e valorizza tutti e in maniera condivisa consente una crescita del bene comune come fattore principale e non solo il profetto.